Multiservizi Ancona è il quarto socio di Estra. L'assemblea dei soci di Estra, Coingassarezzo, Consiac Prato e Intesa Siena, ha deliberato l'ingresso del nuovo partner, che entra col 10% del capitale sociale. Cerved conferma il rating a 3.1 di Estra. Cerved certifica la crescita e l'affidabilità della holding energetica, che in Italia si colloca tra i primi 10 player nella distribuzione del gas e tra i primi 15 nella vendita. Vogliono risparmiare ma sottovalutano le possibilità reali di riduzione dei costi. È la fotografia degli italiani scattata da Lorient Consulting nell'indagine sull'efficientamento energetico commissionata da Estra. Nasce il project manager del bilancio di sostenibilità. Estra promuove la formazione della nuova professione dopo la direttiva europea che chiede alle aziende di fornire notizie anche sul loro ruolo sociale e ambientale.